E' nata una realtà che ha proprio questo nome, casa, comune, laudato sì, laudato qui, scuola e azioni. Qui parte un percorso in questo luogo che tanto abbiamo desiderato. Oggi si sente sempre di più la necessità di approfondire, di fare formazione. Casa Comune vuole essere una formazione approfondita sulle tematiche del sociale, dell'ambiente, connesso alle azioni, scuola e azioni. Per cui vuole mettere in evidenza tutto quello che si sta facendo anche di positivo, dimostrare che è possibile intervenire in un modo significativo su queste tematiche e connettere anche le reti belle positive che ci sono. E' anche un laboratorio per cui inizieremo un percorso anche con le università per approfondire tematiche che poi naturalmente metteremo a disposizione di tutti. Assolutamente abbiamo bisogno tutti di una formazione continua. La conoscenza è il presupposto della libertà. Conoscere i fondamentali equilibri che sostengono la vita in questo pianeta è assolutamente essenziale. Di qui la necessità di avviare corsi di formazione rivolto anche ai futuri cittadini. Qui ci saranno due grandi scopi. Quello di fare informazione a formazione su queste tematiche che abbracciano tutto perché abbraccia l'ambiente, abbraccia l'agricoltura, abbraccia il cibo, abbracciano i nostri stili di vita, abbracciano i trasporti, abbracciano tutte le modalità in cui noi facciamo economia e vita ed ecologia. Ma farà formazione informazione ma non soltanto questo, si occuperà di fare anche azioni, azioni concrete. E lo farà attraverso la costruzione e il legame di reti. I reti fra tutte le persone, le istituzioni, le generazioni, le popolazioni che hanno a cuore questo tema. Il tema che l'ambiente oggi non è un elemento del quale possiamo rimanere impassibili, non è uno degli elementi della nostra esistenza ma diventa il primo elemento fondamentale che provoca diseguaglianza e nega prospettive di futuro per le prossime generazioni. Grazie.